Il Presidente Fabio Fossati, un aglianese che fuori casa emoziona in casa invece anche oggi 1-0-0 contro un buon Certaldo. Sì, purtroppo non siamo andati oltre il pareggio, siamo stati a mio avviso anche un po' sfortunati sotto porte, abbiamo sbagliato diverse occasioni. Forse c'era un rigore, non ho visto bene l'immagine, ma sicuramente dovevamo vincere questa partita. Nel mio punto di vista abbiamo dominato, però purtroppo è andata così. Sì, un aglianese che è partita molto forte sia nella prima che nella seconda frazione di gioco, però il fortino del Certaldo ha mantenuto botta, come si usa dire. Però anche i nuovi innesti sono subito integrati. Sì, abbiamo al momento fatto qualche innesto, si sono integrati bene, ne arriveranno altri nei prossimi giorni, anche perché noi siamo una società come, rispetto alle voci che stanno circolando di crisi, noi siamo una società solida, sana. È entrato un nuovo partner, nonché socio, che ufficializzeremo a gennaio. È una società che è già un sponsor di una importante squadra di calcio, quindi ci stiamo rafforzando anche in virtù del futuro, anche perché stiamo programmando scelte che continueranno a vedere l'aglianese in alto. Ora, quest'anno sta andando in questo modo, purtroppo i risultati non stanno venendo come speravamo, però con noi continuiamo ad andare avanti. Credo che questa sia un'affermazione molto importante anche per tutta la tifoseria nero-verde, ma anche perché la solidità all'interno della società poi si riversa ovviamente anche sul campo. Sì, assolutamente. I ragazzi sono tranquilli, come avete visto. Noi abbiamo provveduto ad adempere tutte le obbligazioni in riferimento a stipendi, fornitori, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista i chiacchiericci che ci sono un po' in giro sono assolutamente non veritieri. Come ho detto e ribadisco, siamo una società sana e solida. Quindi questa è una cosa che volevo chiarire rispetto alle voci che circolano. Allora, innanzitutto ci saranno sia delle entrate che delle uscite. Naturalmente il nostro obiettivo iniziale era quello di puntare al vertice. Non abbiamo cambiato questo obiettivo, anche perché molto probabilmente abbiamo fatto degli errori in fase di costruzione, come può succedere. E quindi elementi devono essere cambiati, altri subentreranno. Speriamo che la squadra si rafforzi ancora di più rispetto ad ora. Per quanto riguarda il campo, il campo è questo. Abbiamo visto tutti quanti la palla, non è che rimbalzi perfettamente. Però non è che ci si può dire che non arrivano risultati per questo motivo. Oggi abbiamo avuto 5 o 6 occasioni, abbiamo sbagliato, quindi non credo sia quello il motivo. Siamo su TeleTour e Telecentro 2, ancora un grande appuntamento sportivo con Calcio Toscano, Calcio Giocato. Come sempre insieme a Maurizio Zini e a Marco Morelli e tantissimi ospiti. Parleremo dalla Serie A fino ai professionisti e oltretutto non mancherà la finestra sui dilettanti, calcio femminile, calcio giovanile. Tutto anche in collaborazione con il magazine Calcio Più e soprattutto con il prestigioso patrocinio Lega Nazionale e dilettanti della Toscana. Calcio Toscano, Calcio Giocato.